ragazzon c'è il mio ragazzon roba che roba ma chi ti ha mai presentato così? no è vero Paolo Ercoli Rino Garzia Gino Caraviere però mi sono dimenticato che se abbiamo anche il rovo e io ho una chitarra e questa canzone che sa anche lui potrebbe venire a farla cosa ne pensate? di invitare il nostro Marco Rovino grazie 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 non grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti